Lo spostiamo e solleviamo la camera iperbarica, l'altra grande novità. Ad ogni spillatura la birra viene fatta fuoriuscire proprio grazie alla pressione crescente che si genera qui dentro. Ecco perché per spillare non serve più l'anidride carbonica. Quando la pressione interna è a zero, svitiamo il coperchio della camera iperbarica e lo appendiamo al suo supporto. Apriamo a questo punto il rubinetto e sganciamo il terminale del capillare. Sfiliamo il tubo capillare monouso e preleviamo il fusto esaurito. Per smaltirlo correttamente basta gettarlo nel bidone della raccolta differenziata per la plastica. A questo punto prendiamo il fusto messo precedentemente a raffreddare e lo inseriamo nella camera iperbarica. Inseriamo il nuovo tubo capillare nella sua sede, fino a quando il beccuccio fuoriesce dal rubinetto, dove lo fissiamo. Chiudiamo la camera iperbarica e la riabbassiamo. Grazie. 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 Grazie.